Meno voli pindarici, più concretezza. Riparte da qui il Partito Democratico, pronto a mettersi alle spalle l'esperienza della Giunta d'Alfonso, supportando il progetto civico e democratico guidato da Giovanni Legnini. Per Renzo Di Sabatino, segretario regionale del PD, il partito che si presenta alle regionali saprà fare tesoro delle cose positive e degli errori commessi nella scorsa consigliatura. Nelle liste di Pescara non ci sarà l'ex presidente della provincia Antonio Di Marco indagato nell'inchiesta Rigopiano. Un'assenza pesante di Sabatino parla di ragioni, di opportunità. Antonio Di Marco è uno dei dirigenti più preparati e capaci del Partito Democratico, ma ci sono anche questioni di opportunità politica che inducono a fare delle scelte che non solo sembrano ma anche sono ingiuste. Dopodiché il ragionamento che abbiamo fatto, oltre al fatto che avevamo anche tanti altri bravi candidati, è stato quello di evitare che quella dolorosa vicenda per tutti fosse strumentalizzata pretestuosamente dagli altri per attaccare il Partito Democratico, la figura di Giovanni Legnini e anche lo stesso Antonio Di Marco. Tra i tanti candidati non c'è l'ex presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco. Come mai questa decisione? Questo non lo deve chiedere a me, io mi sono già espresso su questo tema. Giovanni Legnini promette che a stretto giro sarà reso noto il programma per guidare la regione dei prossimi cinque anni. Programma che parte da tre capisaldi e si fonda su un presupposto, la centralità del lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. Faremo di tutto affinché ogni legge, ogni provvedimento, ogni euro spesso sia orientato alla crescita economica e alla creazione di opportunità di lavoro. Ambiente pulito, disinquinamento e valorizzazione dei nostri territori, contrasto al rischio idrogeologico e al dissesto del territorio, sostenibilità dello sviluppo. E poi salute, diritto alla salute, uguale per tutti, riorganizzazione del sistema sanitario funzionale solo alla prossimità, alla vicinanza, al prendersi cura e poi all'economicità e all'efficienza della gestione. I due presupposti sono ricostruzioni, dobbiamo far sì che il diritto a vedere ricostruire le proprie case, le proprie aziende, i due criteri sismici sia rispettato e l'altro un'istituzione forte. Intanto ieri sera Donato Di Matteo ha tenuto a battesimo ufficialmente alla presenza del candidato presidente le sue liste di Abruzzo Insieme. Di Matteo punta sugli amministratori locali per dare il suo apporto al centrosinistra. Io sono un medico, insieme a me ci sono candidati a tantissimi altri medici, ma anche altri tipi di professionisti, avvocati, commercialisti, impiegati. Sicuramente la gran parte delle persone, solo io so, vengono da un'esperienza regionale, gli altri sono amministratori di enti locali, ma non hanno mai fatto un'esperienza regionale. Sono animati da una grande voglia di fare.